In questo tutorial vediamo degli esercizi riguardanti le funzioni e le loro caratteristiche. Partiamo da questo esempio. Esplicita le seguenti funzioni considerando come variabile indipendente quella indicata a fianco. Nel primo esempio abbiamo 2y meno x quadro più 1 uguale 0 e la variabile indipendente è pari a x. Per risolvere questo esercizio dovremo portare a secondo membro la variabile indipendente ai numeri ed esplicitare il valore della y che risulterà essere la variabile dipendente. E allora vado a scrivere 2y uguale x alla seconda meno 1 e poi per semplificare il coefficiente della y divido tutte e due membri per 2. In questo modo semplifico 2 e 2 a primo membro e in questo modo otteniamo y uguale x alla seconda meno 1 fratto 2. Vediamo questo secondo caso. La variabile indipendente è t e allora vuol dire che dobbiamo portare meno t al secondo membro e vado a scrivere 3tx uguale t più 2. Nel nostro caso la variabile dipendente è x e allora alla fine di tutto dovremo avere x uguale, cioè esplicitiamo la variabile dipendente. Questo vuol dire che qui mi deve rimanere soltanto x e per far questo devo dividere tutte e due membri per 3t. In questo modo semplifico 3 con 3, t con t e otteniamo x uguale t più 2 fratto 3t. Passiamo a questo terzo caso, la variabile indipendente è z e allora vuol dire che la nostra variabile dipendente sarà y. Osservo che a primo membro ho 2y e allora a primo membro metto in evidenza una y ed otteniamo z alla seconda meno 1 per y uguale 5z. Adesso a primo membro mi deve rimanere soltanto y e allora divido tutte e due membri per z alla seconda meno 1. In questo modo a primo membro semplifico questo fattore con questo fattore ed otteniamo y uguale 5z fratto z alla seconda meno 1. Vediamo quest'ultimo caso, la variabile indipendente è t. Questo vuol dire che la variabile dipendente è v e allora vuol dire che a primo membro mi deve rimanere soltanto v. E vado a scrivere v uguale 8t più 5. Vediamo questo secondo esempio. Data la funzione f da r in r così definita, la funzione f ad x associa 4x quadro meno 2x. Trova f di 0, f di 1, f di meno 1. La funzione definita da r in r è la seguente, f di x uguale 4x alla seconda meno 2x. Partiamo dal primo caso. Lo scopo è determinare f di 0. In altre parole, al posto della x dovremo sostituire 0. E allora vado a scrivere f di 0 uguale 4 per 0 al quadrato meno 2 per 0. A conti fatti otteniamo 0. Determiniamo ora f di 1. Questo vuol dire che al posto della x, qui, andremo a sostituire 1. E allora scriverò f di 1 uguale 4 per 1 alla seconda meno 2 per 1. Ed otteniamo 4 meno 2, ossia 2. Vediamo questo terzo caso, f di meno 1. Allora vuol dire che al posto della x sostituiamo meno 1 e vado a scrivere f di meno 1 uguale 4 per, al posto della x vado a sostituire meno 1 alla seconda meno 2 per meno 1. Ed otteniamo meno 1 alla seconda è 1 per 4 e scriviamo 4. E poi meno 2 per meno 1 abbiamo 2. E quindi scrivo più 2. e a conti fatti otteniamo 6. Data la funzione y uguale meno x alla seconda più 4x più 1 trova le immagini di meno 1 e 1 e le controimmagini di meno 4. La nostra funzione y di x è meno x alla seconda più 4x più 1. Per andare a determinare le immagini di 1 e meno 1 vuol dire che al posto di questa x una volta sostituiamo meno 1 e una volta sostituiamo 1. E allora scriverò y di meno 1 e quindi qui e qui al posto della x vado a mettere meno 1. Quindi metto un meno 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 1 alla seconda più 4 per meno 1 più 1 uguale meno 1 alla seconda è 1 con un segno meno di fronte e scrivo meno 1. 4 per meno 1 ottengo meno 4 più 1. Semplifico meno 1 con 1 e quello che otteniamo è meno 4. E allora vuol dire che l'immagine di meno 1 tramite questa funzione è meno 4. Faccio ora la stessa cosa con 1. In questa funzione al posto della x sostituisco 1 e vado a scrivere y di 1 uguale meno 1 alla seconda più 4 per 1 più 1 ed otteniamo meno 1 più 4 più 1. Semplifichiamo meno 1 con 1 e quello che si ottiene è 4 e allora vuol dire che l'immagine di 1 tramite questa funzione è 4. Andiamo ora a determinare le controimmagini di meno 4. Per determinare la controimmagine di meno 4 dobbiamo andare a determinare il valore di x per cui y di x è pari a meno 4 e allora meno 4 lo devo sostituire al posto della y e vado a scrivere meno 4 uguale meno x quadro più 4x più 1. Ottengo in questo modo un'equazione in x che vado a risolvere. Portiamo i tre termini a primo membro e poi sommiamo i numeri ottenendo meno 5. Abbiamo un'equazione di secondo grado che andiamo a risolvere e scrivo x uguale meno b ossia 4 più o meno radice quadrata di b alla seconda meno 4 al quadrato è pari a 16 e poi meno 4c. 1 per meno 5 è pari a meno 5 per meno 4 e scrivo 20 tutto quanto fratto 2 uguale 4 più o meno 16 più 20 è pari a 36 e la radice di 36 è 6 tutto quanto fratto 2. Separo ora le soluzioni. 4 più 6 è pari a 10 diviso 2 otteniamo 5. 4 meno 6 ottengo meno 2 diviso 2 e do meno 1 e allora vuol dire che le controimmagini di meno 4 sono 5 e meno 1. Data la funzione f di x definita da n ad r tale che f di x è uguale a meno x quadro più 1 calcola f di 0, f di 3 e le controimmagini di 0 e meno 8. La nostra funzione è definita dai numeri naturali ai valori reali ed ha la seguente espressione f di x uguale meno x alla seconda più 1. Iniziamo a determinare f di 0. In altre parole andiamo a determinare l'immagine di 0 e questo vuol dire che al posto della x andiamo a sostituire 0 e scrivo f di 0 uguale meno 0 alla seconda più 1 ed otteniamo 1. Andiamo ora a determinare f di 3, ossia andiamo a determinare l'immagine di x uguale 3 e allora vado a scrivere f di 3 uguale meno 3 alla seconda più 1 ed otteniamo meno 9 più 1 uguale meno 8. Ora andiamo a determinare le controimmagini di 0 e di meno 8. In altre parole dobbiamo determinare per quali valori di x otteniamo una f di x uguale a 0 e una f di x uguale a meno 8 e allora vuol dire che nella funzione al posto di f di x vado a sostituire 0 e vado a scrivere 0 uguale meno x alla seconda più 1. Ho un'equazione di secondo grado che vado a risolvere x alla seconda uguale 1, estraggo la radice quadrata di tutte e due i membri ed otteniamo x uguale più o meno 1. Osservo ora che la funzione è definita nei numeri naturali, ossia le controimmagini di questi valori devono essere numeri naturali. 1 risulta essere un numero naturale, mentre meno 1 non lo possiamo accettare perché non è un numero naturale e allora vuol dire che la controimmagine di 0 tramite questa funzione definita nei numeri naturali è pari a 1. Osservo che avrei potuto dire che l'immagine di 1 tramite questa funzione risulta essere 0. Andiamo ora a determinare la controimmagine di meno 8. In altre parole devo andare a determinare per quali valori di x, f di x è pari a meno 8 e allora vado a scrivere meno 8 uguale meno x alla seconda più 1. Ho un'equazione di secondo grado che vado a risolvere. Porto meno x quadro a primo membro e meno 8 a secondo membro. Sommando con 1 otteniamo 9, estraiamo la radice quadrata ed otteniamo più o meno 3. Anche in questo caso ottengo due soluzioni, 3 e meno 3. La funzione è definita nei numeri naturali e allora vuol dire che 3 la possiamo accettare come soluzione in quanto risulta essere un numero naturale. Meno 3 non è un numero naturale e non la possiamo accettare come soluzione. Vediamo quest'ultimo esempio. Date le funzioni definite da n ad r, f di x uguale 5x meno 4 e g di x uguale meno x più 3 fratto 2, determina se esiste un valore di x che ha la stessa immagine in f e in g. Per risolvere questo esercizio dobbiamo vedere se esiste un valore n appartenente all'insieme dei numeri naturali, in quanto queste due funzioni sono definite in n, per cui f di n risulta essere uguale a g di n, ossia le due funzioni hanno la stessa immagine. E allora, tenendo presente che f di x è uguale da 5x meno 4, al posto di x vado a sostituire n ed ottengo 5n meno 4 uguale. Faccio la stessa cosa per g di x. Al posto di x vado a sostituire con n ed otteniamo meno n più 3 fratto 2. Abbiamo così un'equazione in n che andiamo a risolvere. Effettuiamo il minimo comune multiplo di tutte e due membri che è 2 ed otteniamo 10n meno 8 uguale meno n più 3. Semplifichiamo i denominatori e adesso portiamo meno n a primo membro e meno 8 a secondo membro ed abbiamo 11n uguale meno 8, lo portiamo a secondo membro, più 3 ed otteniamo 11. Dividiamo infine tutte e due membri per 11. In questo modo posso semplificare il coefficiente della n e 11 diviso 11 a secondo membro è pari a 1 e allora scrivo che n è uguale a 1 e allora sono certo che per n uguale 1 le due funzioni hanno la stessa immagine. Come prova posso andare a scrivere f di 1 e vado a calcolare l'immagine di f in x uguale 1. Sostituiamo qui 1 ed otteniamo 5 meno 4 uguale 1. Vado ora a determinare g di 1. Al posto di x vado a sostituire 1 ed ottengo meno 1 più 3 fratto 2 e quindi abbiamo 2 fratto 2, ossia 1. E con questo termino il tutorial su esercizi, sulle funzioni e le loro caratteristiche.